Signori, oggi andremo a reagire al mitico Pengu che torna con 200 IQ Consulate Plant Strat Andremo a vedere il 200 IQ, la strategia del plant su consolato, vediamo Enjoyiamo questo momento felice Allora Consolis, non siamo sul consolato quindi aspetteremo quella strat Quindi abbiamo già capito che non è una partita intera ma sono estratti, piccole parti, tarti pirti, aim of a dog Ah sta insultando l'avversario? Cioè sta insultando lui? Non ho capito Ma è la clip con quello che flamma? Ah sta insultando Pengu dicendo che non ha vinto niente nella sua vita È giusto Cioè praticamente ve lo spiego per chi non sa l'ingresso Allora c'era quello che lo stava flammando dicendogli che aveva una mira di merda E lui risponde Tranquillo che sul rainbow la mira non conta LOL Quello gli risponde nuovamente a Pengu Peccato che con la mira di merda che ti ritrovi non hai vinto mai niente Peccato sta che lo stai dicendo Ovviamente Pengu aveva il nome nascosto, streamer mod e tutto Quindi quello non lo sapeva Ma lo stai dicendo a uno che ha vinto il major penso due volte quindi Allora sono sul consolato, fammi vedere sta strat Sto pronto Ci sto Sto carico, sto ferino Vediamo sta strat plant Ma che è lanciare tutte le cose a merda lì a plantare? È quella? Mi sa che la vogliono fare Mi sa che vogliono farla Eh ma darò una libera piano appunto Penso sia quella la strat Comunque ragazzi Vabbè sì allora è quella Ma è un... L'hanno fatta di merda però L'han fatta di merda Comunque l'han fatta di merda Non penso sia quella Aspetteremo Vediamo E come... Che fa lui sopra? Perché era mica quello che era una nota così? Ma strano che Paul se non l'abbia sentito sinceramente Mica cavolo è Montaigne Come fai a non sentirlo? Sì? Sì, è sotto il shower Ok, io andrò a guardarlo Un shower hole 90 Ragazzi ovviamente Lui era main mountain alla pro league Quindi c'è Chi è che lo usa meglio di lui? Montaigne Allora, non capisco tutto questo Ah, sanno che è in kitchen C'è Montaigne L'ha pure ferito Bravo Eh ragazzi Main mountain Dice montagne Ma... Non l'ho mai capito come si dice Ma perché ragazzi Ma perché ragazzi Allora, la pronuncia Dipende Dipende È francese Sì, ok che è francese Ma Molti non vengono detti Con la nazionalità Capito? Perché se no Jäger Si dovrebbe chiamare Jaga Jäga Jäga Nessuno chiama Jäga Ma lo chiamano Jäger Ognuno Storfi è il nome A seconda di dove minchia Eh Pure Pulse In Italia lo chiamiamo Pulse Pulse Cazzo pulsa In inglese è Pulse Però capite che Codite Uno storfi è come cazzo Che pare Perché uno dovrebbe chiamarli In teoria In inglese Visto che La lingua Quella Madre In inglese I tornelli fanno in inglese Quindi uno dovrebbe chiamarli In inglese Pure alibi Lo chiamano Allaboy No, si chiama alibi Eh ragazzi Allora Montaigne non è Scarso Fa cagare Montaigne è difficile Ad utilizzare E lui ovviamente ragazzi Giocava i major Con Montaigne È una bestia Con Montaigne Montaigne Devi usarlo Tanto Devi imparare come si usa E usarlo Bene Allora Vediamo se Ci ripropongono Questa strat 200 eq Strat 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 200 eq Strat Quello era un amico Mi sa Aia Devi 5 Mi sa che non funzionerà mai 3 2 1 Let's go Posso dire che Ehm 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 Ok Ehm L'ha messo male, ho messo male gli azami, oddio ho chiuso tutto Ah lo stava formando eh, lo stava facendo Vabbè non c'è più tempo raga Non c'è più tempo No, no, il t-bag, raga ha funzionato, ci sta come strat Devi prima prendere piano perché sennò ti fanno saltare tutto col c4 Devi sperare che nessuno lanci c4 lì nelle smoke, è un po' particolare come strat Oh shit Sì, non c'è più tempo E' un po' in bar Dio 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 un po' in bar Ma non c'è nessuno in VIP C'erano in VIP in 90 Dio un po' in bar Oh 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 Ok Non lo vedo molto convinto Non lo vedo molto convinto ma vedo gli altri ancora meno convinti di lui che non è convinto Dio un po' in bar Così eh Però alcune volte può riuscire Magari se non se lo aspettano Non c'è però Dio un po' in bar